Immerso in un meraviglioso parco, in una cornice suggestiva e raffinata, sorge il ristorante Il Bagatto, che per il giorno più bello della vostra vita sarà testimone di momenti unici ed emozionanti che non dimenticherete mai. Il ristorante presenta ampi e versatili spazi in cui allestire un meraviglioso banchetto noziale. Potrete usufruire della sala interna impreziosita da ampie vetrate che affacciano direttamente sui rigogliosi e curatissimi giardini. All'esterno la struttura vi offre uno sfondo unico per allestire un romantico buffet all'aperto dove potrete godere delle atmosfere rilassanti che il luogo è solito offrire. Un personale attento e cortese soddisferà ogni vostra richiesta, occupandosi della gestione e dell'organizzazione dell'intero ricevimento affinché ogni cosa si svolga in maniera perfetta e impeccabile. Protagonista di Il Bagatto è senza dubbio la gastronomia dal gusto unico e raffinato in cui il talento e la passione dei maestri di cucina si fondono con gli ingredienti semplici e genuini per dare vita a specialità dal gusto inconfondibile.